Sono sempre Lucky, il vostro home smart coach. All'interno della casa ho fatto la spesa. Mi sono procurato di rotoli di carta igienica, sempre la nostra rete organizzata con le spighette del Volle S3 e ho trovato anche Volle che sarà l'arbitro di questi spikeball Easter game. Sì, perché per la settimana di Pasqua voglio che tutte quante le famiglie giochino insieme utilizzando il tavolo di casa, per esempio. Ma non è un problema, abbiamo giocato a sitting spikeball, abbiamo giocato a dead hand spikeball. Giocate e divertitevi, andiamo a vedere che cosa succederà. Seguitemi! Convocato a casa Volle che è salito sul seggiolone dell'arbitro. Abbiamo costruito come sempre una nostra rete con le spighette di Volle S3. Utilizzeremo la spikeball pronta per andare a giocare oltre la rete, ma soprattutto l'hand spikeball per il gioco pasquale. Siete pronti? Ma abbiamo Spikerman pronto ad accettare la sfida. Pronto per gli spike Easter game? Sì, Lati! Prontissimo? Mani fuori, basso sulle gambe, pronto per anticipazione e che partita sia! Si parte in avanti e gioca a pienizio. Sinistro, destro. La partita è molto vincente. Anticipazione. 1-0 per me! Proviamo ora con la palla da tennis. È partita la partita, la partita è partita. Abbiamo un buon gioco di anticipazione, sempre verso la palla. Cerchiamo di andare a prendere contro il cuore che porta avanti a fare il secondo punto. Una variante degli spikeball Easter game potrebbe essere quella di posizionarsi in ginocchio, prendere la promoball ed eventualmente allenare il gioco della schiacciata utilizzando il rimbalzo al di là della rete sul tavolo e giocando sempre in anticipo. Sei pronto, Spikerman? Sì, Lati! E che la partita è aperizio! Distrutta la rete! E adesso? Pronto? Batto io, mai fuori, anticipazione, si gioca con le cinque dita che spingo la palla. Anche al volo, pure punto per Spiderman! 1-0 per te! E dal gioco, 1-1! Pallonetto spinto, gioco al volo, 2-1! E si continua così, si continua così! Andrà tutto bene! La variante ora degli spike Easter game potrebbe essere sull'hand spikeball in piedi, basso sulle gambe, braccia in fuori, pronto per andare ad attaccare la palla sempre con il rimbalzo dall'altra parte della rete. Oh yeah! Punto per me! Are you ready, Spikerman? Sì! Batto io! Una palla lunga! Punto per me! 1-0! Utilizziamo la sinistra e anche la destra! Pallonetto spinto, si distrugge la rete e si rincomincia! Secondo set! Batto io! Sei pronto, Spikerman? Sì! Via! Punto per me! 1-0! 2-0! Rimettiamo a posto la rete! Difficile questa! Punto per me! E da ancora punto! Sinistro! Bravo Spikerman! E da il punto di Spigolo! Spike it! Terzo set! 1-0 per me! 2-0 per me! Spigolone via! Vince questi Spikeball Easter Game! Voglio i vostri video da casa! Divertite! Giocate! A The Hand Spikeball! Ah, Spikeball sul tavolo, ma soprattutto fatevi vedere i vostri video con gli hashtag della federazione giocavogli S3 a casa con il vostro lucky home smart coach happy Easter! Follow on! Il nostro corpore! 2-0 per me! 2-0 per me! 1-0!